È come un disastro aereo, questa è stata la prima impressione, basta girare un po' per le campagne e si trovano rottami in giro, si sono scontrati in piena velocità. Binario unico, un errore, si capirà come e perché. Le vittime ci sono, stanno lavorando ad estrarre ancora persone dal punto di impatto, mentre tutto il resto dei treni sono stati comunque evacuati e quindi adesso noi siamo lontani perché stanno operando i soccorritori, giustamente hanno bisogno di tutto lo spazio necessario per fare questo. Aspettiamo, sentiremo poi il resto delle notizie.